Allora, tieni sulle mani e non venirmi addosso, ok? Procchio è più di provare, fai il jab diretto, gancio a volta e bandaggio, vai, provalo, subito. Troppo tempo ti ho aspettato, adesso vai tu. Non aspettare, Massimo, non sei passivo, vai. Uno, due, tre, quattro, ok, c'hai provato, bravo. Devi provare, ok, devi provare. Destro gancio, medio destra. Solleva le mani. Copriti la faccia, copriti la faccia. Che poi se tu mi faccia il naso fratturato, ok, attento. Dai, meglio destra, subito. Ma bello, però. No, mi hai fatto la finta, l'ha capito. Devi fare la finta. E' più alto, cevi diretto di voi. Stai più, stai dritto. Non stare di lato, prendi il culo, stai dritto. Non intendo quello. Lo kick, semmai, sinistra, poi destra e gancio. Fa, destra e gancio. Blocca. Blocca, blocca. Tieni sulle mani. Dai, doppia il circolo alla destra. Doppia il circolo alla destra. Dai, bam, bam. Blocca, blocca. Riprova, lo più veloce deve essere, mi pugno. Riprova. Uno alto, uno basso. Vai, doppia sinistra. Ora, doppia sinistra. Dotto, subito. Subito, uno, due. Da la propria, da la scala. Uno, due, subito. Devi rientrare subito. Subito alto, testo basso e calcio-sinistro alto. Prova. Cambia le altezze, vai. Non aspettare, non aspettare, ho detto il jet. Diretto al tronco. Prova, dai, provalo, quel tempo sta passando, dai. Jet, diretti al tronco, circolare alto. Dai, prendi il tempo e vai. Avvicina il secondo piano. Sei troppo lontano, avvicinati, devi fare quel lavoro. Uno, dai. Devi metterlo in frontale, non in lato. Prendi lato, Massimo, non stai più in frontale. Riprova l'azione, dai. Dai, vai avanti tu. Tonigli la distanza, tonigli la distanza. Questa è la sua distanza di gambe. Devi andare più vicina. Devi andare nella tua distanza, più vicina. Devi fare le combinazioni, aumentare le braccia. Massimo, ti ho detto, jeb, diretti al tronco e calcio alto. Possa. Che ci vuole, provate. Dai. Uno, due, tre. Così. Così, ma decido. Se non sei deciso, apri il calcio in pure. Jeb è spinguto a destra. Lo vedi come ti giri? Lo prendi in culo. Devi stare dritto, dritto. Così. Dritto. Lo decido, lo decido. Così. Quinta, tu mi scende lì a destra. Vai. Dai. Jeb, però. Così. Chiuditi. Chiuditi in faccia. Chiuditi. Uno, due, due. Uno, due, due. Massimo, uno, due, due. Massimo, e quattro. Uno, due, due. Non ne devi aspettare. Non ne devi aspettare. E riparti, non ne vuoi due, te ne te lo dico. Sto rascoltando e facendo quello davanti. Uno, due, due. Muovi. Ok. Chiuditi. E... Jeb è calcio alto. È un'alto in basso. Prova. Però decido, subito. Possiamo adesso. Vai, subito. Dai. Così. Vedi che ci hai provato. Fallo. Appena te lo dico. Se non entrano in porta. Almeno ci provi. Fronta la spinta. Fronta la spinta. Vai. Che sei frontale. Via. Fronta la spinta. Adesso. Adesso. Ok. Sulla in manica. Lavora un po' di braccia. Vai. Lavora un po' di braccia, Massimo. Ascoltami. Lavora un po' di braccia ora. Ascoltami. Ascoltami. Lavora un po' di braccia ti ho detto. Chiudi la distanza. Tempo.